oggigiorno non siamo più liberi di muoverci di parlare di agire se corvo in soccorso ad una persona che ha bisogno arriva una volante finisci nei casini mi domando ma dove sta la tutela del cittadino italiano dove stanno i nostri diritti chiunque è libero di decidere per la vita degli altri non esiste proprio io sono convinta che in italia ci voglia una sana e buona rivoluzione per fare sì che tutto torni come una volta perché chi ha un grado in più in questa società fa solo esclusivamente un abuso di potere tutto lì sono veramente vergognata di essere rappresentata da politica corrotta da questa politica sporca e da pubblici ufficiali che usano le loro divise per rovinare l'italiano perché hanno forse paura di mettersi contro uno straniero perché oggi nel nostro paese in italia sono tutelati loro noi siamo diventati solo esclusivamente di numeri e persone siamo diventate delle persone da utilizzare e da usare per far pagare ciò che non possono far pagare agli stranieri tutto lì mi vergogno di essere un'italiana che non sono diventate delle persone da usare per far pagare ciò che non possono far